Grave incidente stradale nel primo pomeriggio all'incrocio tra la centralissima via Machiavelli e via Puccini a Via Reggio. Un'auto Toyota che percorreva la via Puccini con direzione di marcia sud-nord, condotta da una donna di 38 anni, si è scontrata con un pullman di linea che percorreva via Machiavelli con direzione di marcia mare-monti. Probabilmente, ma tutto è ancora da accertare, la donna non avrebbe visto lo stop. Lo schianto è stato violento, tanto che la Toyota è stata quasi distrutta nell'impatto finendo contro un'abitazione all'angolo delle due strade. Ad avere la peggio è stata la conducente dell'utilitaria che si è procurata un trauma cranico ed è stata subito trasferita con un'ambulanza della Croce Rossa di Via Reggio all'ospedale di Cisanello. Sul posto è intervenuta anche l'automedica. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono state avviate dalla Polizia Municipale di Via Reggio.